. Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, a cura di Film is Now! History Channel produrrà una serie tv intitolata The Kennedys, dedicata ai membri della famiglia presidenziale, ovvero John, la moglie Jackie, il fratello Robert e il padre Joe. Così, a distanza di qualche mese dall'annuncio di una pellicola su Jackie Kennedy Onassis, che verrà interpretata da Rachel Weisz, anche la televisione decide di raccontare il mito di questa famiglia. La serie sarà diretta da John Kassar e nelle vesti della bella Jackie ci sarà Katie Holmes. Dopo A Serious Man, uscito l'anno scorso, i fratelli Coen sono attualmente impegnati nella stesura del remake di Gambit, pellicola roccambolesca realizzata da Ronald Lame nel 1966. La regia verrà fidata a Doug Lehman, specializzato nel genere action-comedy, avendo firmato Mr. & Mrs. Smith e The Burn Identity. Il regista di Star Trek, J.J. Abrams, realizzerà un film interamente dedicato a Steven Spielberg, avvalendosi anche della sua autorevole collaborazione. La pellicola sarà un contributo alla carriera storica di Spielberg e in particolare alle produzioni che hanno segnato la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per intenderci, pellicole dal calibro di incontri ravvicinati del terzo tipo, Poltergeist ed E.T. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer! A presto! A presto! A presto! O anche questo! A presto! No! Ops! No, è perché mio stepbro Carlos e i sono stati portati all'estero a l'air di fare. E' fuori! Non è un animale! Oh, è un animale! Oh, è un animale! Califonese! Alla ora! E' la vita di cambiare! Un'unica! 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 I un'unica! Un'unica privacy, Un'unica privacy, please! Califonese! Out here, the dog park is like high school for dogs. You've got your jocks! And your cheerleaders! Oh! Frisbee! Your drama geeks! Bang! Bang! I've been dispersed so long I can't feel my legs! And your bullies! The pedigrees! Check out those ears! Can you fly with those things or what? Do you think my ears are too big? Those things are huge! Do friends fly? What do you think my ears are too big? Do you see that? Do you know what the hell they are? You'reدمers! Now that I have to take you for the dogs to do, You'd be full. They're all the birds there than... They're all the birds to do, there are no birds to do. That's the birds too. It's over. What are the birds? No! They're all the birds to talk. The birds to do their birds to do. They're all the birds to do. They're all the birds to do. The birds are over. My bad, I slipped off the seat And Keeper Sutherland Being a pedigree means you're exceptional Ferdinand is fluent in six languages Including Gopher Marmaduke Uh-huh What I like about you You really know how to dance Hey, 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 hey 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 Hey